Brutta notizia per la Cremonese, l'infortunio del portiere Giacomo Venturi è più grave del previsto. L'estremo difensore dei Grigiorossi era uscito in lacrime nei minuti finali della sfida contro il Venezia, trasportato dalla Barella dopo uno scontro di gioco con Varano. Venturi ha riportato un grave trauma distorsivo e in queste ore lo staff medico della Cremonese sta valutando seriamente l'ipotesi di un intervento chirurgico che in un primo momento sembrava scongiurato. Il portiere molto probabilmente sarà operato all'inizio della settimana prossima presso il Policlinico San Matteo di Pavia dal professor Benazzo, consulente medico del club Grigiorosso che in passato si era già occupato di Abruscato, Fieta e altri giocatori della Cremonese. A questo punto, per quanto riguarda il campo, risalgono le quotazioni di Riccardo Galli, utilizzato per la prima volta in campionato da Montorfano proprio nei minuti finali del match contro il Venezia per sostituire lo sfortunato Venturi. Galli e Battaiola sono gli unici due portieri a disposizione del tecnico in questo momento, considerando il fatto che Quaini si sta allenando con la squadra ma non è sotto contratto. Riguardo la situazione di Battaiola, oggi il dottor Bozzetti ha rassicurato tutti facendo capire che è clinicamente recuperato dopo il guaio muscolare accusato nelle scorse settimane. L'ultima parola adesso tocca al preparatore dei portieri Gigi Turci che deve valutare in allenamento se il ragazzo è pronto per il ritorno in campo.